create a new world minecraft ita è la serie di surri minecraft romano si sono uno difficoltino hard brodi stiamo tornati su minecraft damn boy if you like music video you will love music live link del triplo in below c'è già del coso accodindo allora ti dico e abbiamo iniziato molto c'è la lava e c'è l'acqua i due opposti e ci sono anche delle cacciotte divo qua vedi cos'è questa qui non è una serie è inneggiamento al satanismo quello che faremo qui sarà semplicemente uccidere qualsiasi forma di animale al mondo lo possiamo fare comunque no allora in realtà topoloni abbiamo riniziato questa serie su minecraft che questa qui è una serie a parte che o meglio no no non ho fatto niente io no 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 perché ogni volta che io faccio qualcosa prende fuoco no ma brodi ma è impossibile mi allontano mi allontano non ho fatto nulla cazzo sembra un intro del 2006 no del 2010 su minecraft bello a tutti ragazzi per i due di questo video come avevo detto che avremmo fatto quella serie dove voi tramite beat sub e donazioni potevate interagire con il mondo di minecraft quella mod twitch spawn non mi ricordo la roba del genere siccome ancora non sono riuscito a settarla perché perché sono rincoglionito non lo so fare ho chiesto aiuto a nova che probabilmente me lo darà nel giro di questi giorni piuttosto che aspettare un'altra settimana o altre due settimane dove non faccio nulla ho detto la inizio poi prendiamo il mondo che abbiamo iniziato e lo portiamo con la nuova mod quindi scimmie con le scarpe niente fra fin cioè questo era era tutta scimmie ok io i funghetti mi sa che li prendo un paio di funghetti per farmi in vena magari mi becco qualcosa di allucinogeno mi arriva una gran tega porco due vini qua mamma mia un furri posso farmeli posso riprodurmi con una volpe comunque voglio cercare di essere più family friendi possibili in questa serie tutte le parolacce non verranno mai detto e saranno bandite così che almeno su youtube posso monetizzare il massimo da quei sacchi scrott... denominati bambini detto c'è una crat... c'è c'è un cratere qui dentro oh interesting interesting mi metto sopra mi metto sopra però da c'è mi faccio un piccone bam io poi sembro tipo i nani no ho totalmente sbagliato quello che volevo dire sembro tipo i sette non i sette nani uno dei sette nani brother se arriviamo al livello 5 12 ore di minecraft maratona brother preferirei uccidermi onestamente però va bene te lo dico se arriviamo al livello 5 dell'hype train facciamo 12 ore di minecraft e sai perché te lo dico muso sei cambiato lo dici perché vuoi le sub no perché l'hype train mi ha appena finito e non potete farlo ripartire I'm a boy boy cioè nel senso cazzo è cazzo vuol dire I'm a big brain boy allora sentite cosa devo fare io io ho bisogno del cibo ma non trovo cioè i funghi me li posso sparare me ne posso mangiare un fungo non me posso mangiare un funghietto come come faccio vado e c'ho un'idea c'ho un'idea c'ho un'idea c'ho un'idea mi faccio dei pesci tipo ariel vieni qua porco due mamma mia ma che accettate comunque ariel veramente una delle personaggi disney più smash in assoluto è un botto smash ariel secondo me dopo pumba però tralasciando lui è tipo il numero uno allora la prima cosa che vorrei fare è trovare un pochettino di carbone perché il carbone perché siccome non possiamo sfruttare degli individui per raccogliere del carbone come le più grandi va bene dicevo carbone oh l'ho trovato pensate l'ho fatto tutto io perché ovviamente non ho bisogno di nessuno che scavi il carbone al posto mio guardi quanto è buio non ci vedo un canale oh a banana ma vero ve lo ricordate il video del oh a banana di quel bambino che come regalo di compleanno gli piove una banana ed è felice gli dai baci vorrei trovare una ragazza così rame mi importa perché mia grande sciviltà si basa su rame no però del basta che poi magari becchi un ragazzo rumeno che è cresciuto probabilmente non lo so con nessune battute fa è muto ma se io facessi delle battute sugli italiani e siamo opposta qui per questo presa carbone io preso guarda no 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 non voglio essere rumeno mentre scavo carbone chiedo scusa ma io ho preso il carbone wow sono già a livello 5 è un enjambemont fammi andare sopra oddio arriva la notte no brother arriva la notte sapete cosa vuol dire notte muso in un mondo difficile vuol dire solamente grandissima morte grossa morte porco due porca porca due qua c'è un pezzo di legno non posso non posso qua qui blocco così qui non può entrare nessuno qua nemmeno adesso vi faccio un numero così guarda l'assurdo guarda che roba guarda 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 no faccio così faccio così faccio così faccio così pam 16 perché non illuminano perché non illuminano nella mia mano è l'optifine è l'optifine è vero è vero è vero e quella lì la dovremmo mettere per forza allora qui siamo attaccati con l'esterno e la vedo una 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 e vabbè no di un'altra di un'altra volta una luca di un'altra volta una vedo una e vabbè vabbè vedo grotta io vedo grotta io vedo grotta io vedo cazzo fammi andar giù ma io dè che posso respirare là sotto posso respirare non posso respirare ok 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 sereno sereno basta sta sereno basta sta sereno basta sta sereno allora pandora insegna non vorrei dire una delle persone più assurde di questo mondo muso regà è l'unico motivo per il quale non faccio speedrun è perché mi dispiacerebbe prendermi tutto quello che mio allora una vado ancora giù io perché mi dà l'idea di esserci qualcosa sbaglio guarda se c'è la luce vuol dire solamente porco allora perché c'è la luce ma chi è che mi fa la luce ma chi è sta cosa che mi fa ma perché mi fa tutta la luce io ragazzi non capisco chi fa la luce no oggi non c'è sta nulla ok chill 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 questo pesce io ti dobbiamo ammazzare tutto come 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 chi lo porta chi lo porta ma io ho direto di aver trovato una grandissima cosa ragazzi voglio guarda come entra la luce ma qui possiamo farci una casettina voglio visto dei ferro no zitto porco fammi entra fammi entra porco vabbè sereni regà voglio devo mangiare un altro pezzettino le cose non la mangio ma non abbiamo preso le mis- le- uaah 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 ok fortuna che qua non può arrivare nessuno però vado di sotto non abbiamo cibo non sappiamo da dove siamo venuti porticina per forza ma giappo e vado sopra sereni ho trovato casa chiamare questa cosa casa è un insulto a chi abita nelle case popolari allora cuociamo questo poi io direi di fare un'altra ne facciamo due anche se non è la nostra casa perché nel mentre cuociamo un pesce ovviamente cuociamo chissà quanti pesci no uno bene 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 c'è qualcuno qui fuori? non mi tocchiare porco il tuo ma 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 che cazzo di problemi hai? guardami in faccia quando bruci oddio strulli staccia biciago oddio wow non ringrazio più con tre pezzi di ferro posso farmi qualcosa? non puoi fare a chi andate aspetta faccio una roba assurda faccio così questa no no cambiamo cambiamo punto questa cosa questa cosa non ci piace a me non piace non piace per nulla eh non piace nulla no a me piace a me no nulla io cambio strada non mi piace io non piace a me non faccio io lì eh non piace non piace non sto io io cerco pesce perchè quando vedo pesce mi ricordo di mia casa famiglia fammi in culo dentro questi sono tipici suoni di mio campo scusate non è vero non è vero i rumeni non uccidono i pesci sono i pesci che uccidono i rumeni ma io studo wow io mi faccio una strage scusate allora aspetta 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 mi faccio brode easy clutch easy clutch easy corco clutch oddio ma se faccio una puzzetta mi caga addosso non devo dare sull'occhio quando faccio una scoreggia il modo ideale per non farti accorgere è proprio stare in silenzio e far finta di nu ah vedi cioè voi vi siete accordi che io scorreggiato no ma io c'è un maiale assunto bam vieni a ca strunzi brode non mi agolare come voi maiali bam battezzato mi ho preso scibo 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 piaciaci brode questo bioma è molto gourmet che puzza di merda ragazzi assurdo comunque assurdo cioè ti ho scorreggiato porco due sembra che ci sta un morto sotto casa mia ma come è possibile ma è beve decomposizione questa non è cioè faccio una casa sull'albero mi faccio un albero se vuoi è il massimo di cose che posso fare no brode io vorrei scusate non mi piacciono questi alberi no brode non ci stanno nemmeno gli animali e che devo fare devo fuggire di continua c'è un buco mio bello bellissimo sto buco ok mi metto qua prendo questo però non sto girando intorno stavo andando mezzo dritto bello una classica casa a palermo prendo un po' di carbone però qui metto a cuocere queste queste bam e queste ok no prendo un pochettino di carbone e ci riveghiamo dopo no non è vero non è un video di marco scusate qui mi sento a casa brother la mia casa è una grotta come qualsiasi casa in sardegna e quindi mi sento a casa se sento del freddo dentro un un po' di mure ok della roscia calda fredda io questa navoresta oh marone ma io ho sentito un rumore teresa oh dè vabbè la gamba è andata la gamba ciccio è andata allora questo qui la possiamo prendere ha finito perfetto mi prendo anche questa e si continua a camminare e si continua a camminare adesso noi andiamo dritto cioè io voglio andare a cercare un altro bioma un altro biome se sopra questa montagna posso trovare la verità assoluta no la torcia la lascio lì perché in caso qualcuno ci andasse lui ci vede è una grandissima montagna assoluta oh qui noto una cosa che prima non c'era a mia pazienza la potrebbe esserci del desert oh oh là c'è una prateria ok bisogna andare verso quei lati lì bro ho fatto una grandissima giocata andiamo dritti di qua infatti era proprio dove volevo andare non so se ne siete d'accordi bufala va che roba è una bella prateria eh non ci credo va che roba no va be ma va che roba eh sì ma va che roba scusate eeeh assurdo no va be un pollo oh mio dio io non vedo l'ora di sterminarvi questi polli però io me li tengo perché perché un pollo se lo ammazzi lo scopi una volta se lo addestri te lo puoi godere di più oh marah ma che c'è stata oddio vedo una pecore scusate vado a prendermi una pecorena give me your ass boy turn around boy girati chicca ma che fai guardi i video di Danny lazzarin per il culo però ti dico questo posto potrebbe essere bello per farci una casetta siccome sta arrivando la notte e dobbiamo trovare un posto magico dato che abbiamo la miniera qui vicino mi faccio quest'ultima vaccona vado di sotto no? eeeeeee non ho terra ok così a meno qui magari non ci cadono dall'alto perfetto dovremmo dormire ah ah scusate mi è venuto duro ma secondo voi se io rido per le mie stesse cagate no? boh cosa devo fare adesso io? io direi di farmi un altro picconcino mi prendo un pochettino di pietra perché in realtà la pietra come disse Aristotele Aristotele scusate è bella ma fa male tipico detto aristoteliano quindi io direi di far così mi faccio un altro picconcino con questo qui di ferro potrei andare a prendere un pezzettino di legna serve solo un pezzo di legna ci serve solo un pezzettino di legna serve solo uno piccolino piccolino ci siamo stelt siamo stelt siamo stelt non ci ha sentito nessuno siamo stelt signorite Teresa bam 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 stelt stelt wow il legno ragazzi è una delle risorse che trovi subito ma è quella più rara sono un ninja bro sono un ninja ninja da tavola per ritornare in un nuovo video abbiamo preso un po' di legno che io credo basti avanzi in realtà perché dobbiamo solamente fare uno scudino secondo me lo scudino è la cosa che ci serve di più allora prendiamo questo mettiamo ancora a cuocere metto un pezzettino qui sopra voglio pezzo sopra abbiamo messo metto una di questo allora prima di tutto voglio prendere uno pezzettino di gist com'è che si fa? fenomenale sto ragazzo abbiamo solo tre diamanti cioè sei tre diamanti tre iron nuggets possiamo farci picconcino magari non lo utilizziamo ma in chiaso lo utilizziamo eh kibunpon lo teniamo vogliamo prenderci le coordinate vada è coordinata meno 530 e meno 143 non lo utilizziamo